Bene, ciao! Questo è il video dei favoriti del mese di trucco. No, questo è il video dei favoriti del mese di giugno per quanto riguarda i prodotti da trucco. Allora vorrei discutere con te alcune questioni riguardanti pochissimi prodotti. Nel mese di giugno ho fatto i miei consueti video di trucco, quindi ho usato svariati prodotti di trucco e mi sono piaciute diverse cose. Per esempio posso citare la palette di Kiko Interamente Naturale che faceva parte dell'edizione limitata chiamata Kiko Green Me. La prima, la primissima edizione limitata chiamata Kiko Green Me. Ecco, la palette che si chiama Safran Qualcosa, la palette con tutti i toni rossi, con tutte variazioni di rosso, questa è una palette che mi piace tantissimo. Non è una palette che può essere usata da persone che amano la scrivenza, che sono abituate a prodotti da profumeria, perché purtroppo ogni cialdina non rilascia tantissimo colore, però è una palette con cui si possono fare veramente trucchi molto belli, che sembrano professionali pur non essendolo per niente. Quindi potrei citare questa palette, potrei citare tante altre cose che ho usato, il nuovo bronzer edizione limitata in formato gigante di Cotrice, della linea Clean ID, un bronzer molto soft ma allo stesso tempo molto molto bello. Tutte queste cose però non ve le faccio vedere, perché le ho usate ancora troppo poco per poter avere veramente un'opinione che sia probante, che sia veramente qualcosa di cui ci si può fidare, anche per me stessa, un qualcosa che io possa ricordare come ah sì, questa cosa l'hai provata a lungo e quindi sapevi di che cosa stai parlando. E quindi vi parlo di altre cose che invece conosco molto molto bene. Ma c'è comunque un prodotto dell'edizione limitata Clean ID di Cotrice e vorrei cominciare proprio da questo prodotto, anche se solitamente vi parlo a fine video nel video dei preferiti di trucco dei prodotti da labbra, però in questo video vorrei veramente parlarvi di questo Lucida Labbra di Cotrice, perché insieme a questo Lucida Labbra ci sono dei pro e dei contro. Con questo Lucida Labbra vi arrivano proprio addosso dei pro e dei contro. Allora, questo Lucida Labbra che costa 4 euro, questo potrebbe essere un contro, in Germania perlomeno costa 3 euro e 95, tuttavia siamo ancora in un prezzo abbastanza contenuto, visto soprattutto il prezzo che costano gli altri pezzi di questa edizione limitata di Cotrice Clean ID. Poi un'altra cosa che non è né un pro né un contro, quando questo prodotto era nuovo, qui dentro non c'erano delle bollicine che invece adesso hanno incominciato a formarsi e io non so che cosa significano, non so se riuscite a vedere le bollicine, prima non c'erano. Io ho questo Lucida Labbra nella colorazione 030 Plump Pink, vi faccio vedere anche com'è questa colorazione, e apprezziamo anche naturalmente tutti insieme il rumore del Lucida Labbra quando si apre, così è la colorazione, forse riuscite a vedere che la spugnetta è troppo flessibile, quindi non è piacevolissimo mettersi la spugnetta direttamente sulle labbra, passarsi la spugnetta direttamente sulle labbra. Questo si chiama Clean ID Hydra Volume Lip Plumper Vegan No Microplastic Particles Silicone Mineral Oil Used In un tedesco piuttosto, in un inglese piuttosto pedestre, i tedeschi di Cosnova, Cosnova è la stessa ditta che fa anche Essence, Vi vogliono raccontare che questa linea di Catrice, che si chiama Clean ID, non contiene siliconi, non contiene microplastiche, e non contiene derivati del petrolio, però la cosa è limitata solo a questi prodotti, perché poi sia Essence sia Catrice sono leader nel mondo nell'uso di microplastiche, nei cosmetici decorativi, quindi il fatto che vengano a scriverti qui sopra che dentro questo prodotto non c'è questo, non c'è quello, boh, lascia un po' il tempo che trova, e questo potrebbe essere anche un contro di questo prodotto. Un altro contro di questo prodotto è che esiste in quattro colorazioni, nessuna di queste colorazioni rilascia veramente colore, e le colorazioni sono tutte molto blande, quindi perché quattro colorazioni? Solo per far spendere più soldi alla gente, che magari si illude che ci sia un rilascio di colore, e compra, ho sentito un rumore sinistro, e compra magari più di una colorazione. Poi un ottimo pro, uno dei pochi, di questa lucida labbra, è che c'è un fantastico sentore mentolato che si diffonde su tutta la superficie delle labbra, e che è effettivamente molto molto piacevole, e questo sarebbe il motivo principe per cui comprare questo lucida labbra. Un altro pro di questo lucida labbra è che, come vedete, ce l'ho sulle labbra in questo momento, anche se poi sotto ha un rossetto di 100% Pure, che si chiama Sultry, ha un finish molto lucido, dona alle labbra un finish molto lucido, però io ho il sospetto che formi, con il trascorrere delle meze ore, anche un'immonda pappazza agli angoli della bocca, e questo assolutamente è inconcepibile per un lucida labbra, fabbricato nel 2021, e anche contenente una certa tecnologia nella messa insieme della formulazione, diciamo così, quindi, boh, non lo so. Questo lucida labbra, io continuo a mettermelo tutte le volte che mi trucco, e anche da solo, è un lucida labbra che mi piace, ma mi piacerebbe di più se fosse affidabile, e se non formasse pappazze. Poi, nel mese di giugno, proprio si è evidenziata tantissimo la qualità di questo Auen Brown Gale, io ce l'ho nella colorazione 02 Brown, che è una colorazione rossiccia, che posso anche tranquillamente farvi vedere sul dorso della mano, è rossiccia, e non né intensa né coprente, questo è un prodotto per sopracciglia di al verde, costa 3,95 euro, esiste ancora in commercio, l'astuccio è dotato di questo scomodo spazzolino che io non ho mai usato, al punto che infatti non sapevo neanche aprirlo, e che non serve a niente, ma a parte lo spazzolino, questo gel colorato per sopracciglia è veramente il migliore che io abbia provato finora, è il migliore perché non incolla le sopracciglia, è il migliore perché rilascia colore, però in un modo molto molto sotto controllo, quindi praticamente quasi invisibile, anche se io dai video vedo il colore sulle sopracciglia, è un colore che mi piace, però è un colore rossiccio, quindi del piacere, è un prodotto che è il migliore usato finora, perché si presta poco ad errori di applicazione, ed è un prodotto che ha un inci completamente identico all'inci dei suoi rivali di Alterra, di Terranaturi, della stessa Alverde che da poco ha lanciato un nuovo prodotto per sopracciglia in un astuccio più piccolo, e però non so come sia possibile, considerato l'inci che è lo stesso identico, solo alcuni estratti, alcuni pigmenti cambiano, questo performa meglio, è fluido in una maniera più piacevole, cioè è proprio un prodotto migliore, quindi questo si è confermato tantissimo nel mese di giugno, un prodotto veramente valido. Poi ci sono alcune matite, vorrei parlarvi delle matite da mettere dentro l'occhio, in particolare ora vi mostro queste due, perché queste sono le matite che ho usato di più nel mese di giugno, sono tutte e due di Terranaturi, una si chiama numero 04 Cherry Blossom, e vi faccio vedere proprio anche al volo il colore che è questo, e poi l'altra matita che è la matita che ho all'interno dell'occhio oggi tra l'altro, si chiama 01 Natural Brown e è fatta in questo modo. Questi colori si adattano tantissimo per l'interno dell'occhio, queste sono chiaramente due matite originariamente per le labbra, per il contorno delle labbra, ma vanno benissimo per l'interno dell'occhio, il mio metodo è sempre un'applicazione doppia, cioè all'inizio del trucco degli occhi passo la matita una volta all'interno dell'occhio e poi quasi a fine trucco degli occhi passo la matita una seconda volta e in questo modo la matita resiste lungamente all'interno dell'occhio, ma in generale tutte le matite di Terranaturi hanno una durata molto molto apprezzabile, hanno delle colorazioni che sono molto molto piacevoli e sono delle matite che mi piacciono moltissimo, se però da una parte devo dire che queste matite sono veramente molto molto buone, in generale tutte le matite da labbra e da occhi di Terranaturi però d'altra parte devo anche sottolineare e ripetere all'infinito che Terranaturi come marca di cosmetici decorativi non è che sia tutto questo non plus ultra quindi magari non vi tuffate sopra i cosmetici di Terranaturi decorativi credendo che siano Dio sceso in terra e soprattutto non vi fissate autoconvincendovi che siano cosmetici performanti veramente se dovete proprio comprare una cosa di Terranaturi io decisamente tenderei verso le matite per occhi e per labbra e poi anche verso i rossetti che sono anche molto buoni però nulla più di questo infine c'è una matita che ho usato esclusivamente stavolta per il contorno delle labbra ed è Stone di MAC le matite che io uso di MAC di più sono Stone e Chestnut negli ultimi mesi mi sono trovata ad usare molto frequentemente Chestnut però riusare Stone proprio è come riabbracciare un vecchio amico a cui si vuole molto bene perché veramente Stone è una matita fantastica le mie labbra sono state contornate anche oggi con Stone di MAC e il colore è grigio marrone rosato lo vedete credo bene e questa è una matita che mi piace tantissimo infatti vedete che diventa sempre più piccola le matite di MAC in parte hanno un inch interamente naturale alcune sono state riformulate e non ce l'hanno più in parte hanno un inch interamente naturale significa che alcune colorazioni hanno ancora tutt'oggi un inch interamente naturale alcune no a parte i pigmenti chiaramente alcune però no alcune contengono silconi e ogni ogni possibile immaginabile cosa che non va bene quindi occorre saper leggere gli inci e occorre sapersi non fidare e saper resistere alle bagianate che vi dicono e che vi raccontano e che vi vomitano addosso le commesse e i commessi che lavorano da MAC e che generalmente sono le persone che ne sanno meno per quanto riguarda i cosmetici di MAC perché sono persone molto giovani molto prese da se stesse e che hanno incominciato ad abbracciare il mondo di MAC solo da quando ci lavorano prima probabilmente non potevano permettersi cose di MAC e non se ne interessavano neanche e quindi di MAC non conoscono tutta l'era d'oro non conoscono niente conoscono solo quello che vendono sul momento quindi ne sai sicuramente di più tu se tu ti occupi di cose di MAC da lungo tempo che non ho commesso una commessa di MAC quindi veramente lascia perdere quando un commesso o una commessa di MAC ti dice qualcosa tu non ci credere ciò proprio per partito preso e a priori comunque questa è una matita fantastica quello che non è fantastico è il prezzo perché se tu già solo pensi queste matite costano 1 euro e 95 questa costa 19 euro boh come dire allora questo video è finito questo è tutto quello che volevo raccontarvi e raccontarmi per quanto riguarda i favoriti del mese di giugno ripeto ci sono tante cose che ho usato ma non per questo devono atterrare tutte nel video dei favoriti ecco quindi vi ho parlato di ciò che mi è piaciuto di più e di ciò che mi ha impressionato di più e il resto rimane nei miei video da guardare e da apprezzare ecco ciao ciao